quando mi sono voltato a guardare la mia mula era come se lui fosse uno di quei cannocchiali e io lo guardavo in piedi laggiù e vedevo anche tutta la distesa della campagna e la mia casa che ho cavata da lì col sudore della fronte e più ci mettete sudore e più vostra è la campagna e più ci mettete sudore e più chiusa è la casa perché percora ce ne vorrebbe una più chiusa per tenerla ferma come un orcio di latte tuffato dentro una sorgente ci vuole un orcio ben chiuso e ti ci vuole una sorgente vivace e se ne hai una questo ti incoraggia ad avere degli orci ben chiusi e ben fatti perché cagliato o no il latte è tuo perché si preferisce avere del latte che caglia piuttosto che latte che non caglia perché si è uomini e lui mi teneva stretta la mano nella sua che era calda e fiduciosa tanto che avevo voglia di dire guarda un po vedi quella mula laggiù non c'è voluta venire di qua non c'è venuta per quanto sia una mula perché ogni tanto si capisce che i bambini hanno più sale in zucca dei grandi ma non ci piace ammetterlo finché non hanno la barba quando poi ce l'hanno sono troppo occupati perché non sanno se potranno mai tornare indietro all'epoca in cui avevano il sale in zucca prima che gli spuntassero i peli e allora non ti importa di ammettere con le persone che si preoccupano per la stessa cosa che non val proprio la pena di pigliarsela per così poco eccoci dunque dall'altra parte ritti impalati a guardare cash che faceva girare il carro e guardammo risalire fino alla strada nel punto in cui il sentiero scende verso il fondo dopo un po il carro non si vedeva più è meglio scendere fino al guado e tenerci pronti a dare una mano ho detto io le ho dato la mia parola dice ans è sacra per me lo so che voi ce l'avete con me ma lei vi benedirà dal paradiso bisognerà che finiscano di fare il giro della terra ferma prima di arrischiarsi a entrare in acqua ho detto io andiamo è perché si è tornati indietro dice lui porta sempre male stava la curvo malinconico con gli occhi fissi sulla strada vuota al di là del ponte che tremava e oscillava e quella ragazza poi con il cestino della colazione a un braccio e il pacchetto sotto l'altro in viaggio verso la città decisa ad arrivare rischierebbero il fuoco la terra e l'acqua e tutto il resto solo per poter mangiare un sacco di banane dovreste fermarvi per un giorno ho detto da qui a domani mattina si abbasserebbe un po il livello forse stanotte non pioverà e non potrà crescere ancora le ho dato la mia parola dice lui e lei ci conta davanti a noi scorre l'acqua densa e nera la sua voce arriva fino a noi in un mormorio incessante ripetuto la superficie gialla e mostruosamente increspata di mulinelli improvvisi che corrono per un istante sul filo dell'acqua silenziosi fugaci e profondamente significativi come se proprio sotto la superficie qualcosa di enorme e di vivo si risvegliasse da un sonno leggero per ricadervi dopo un momento di pigra attività tra i raggi delle ruote intorno alle ginocchia delle mule gorgoglia e mormora gialla schiumante di detriti e di grosse chiazze di spuma sporca come se avesse sudato bianca come un cavallo spinto al galoppo scorre sotto i cespugli con un suono lamentoso un suono meditabondo i giunchi e gli elberelli non esposti al vento si curvano sotto di essa come sotto una lieve raffica ondeggiando senza riflessi come sospesi da fili invisibili ai rami degli alberi si ergono sopra la superficie requieta alberi giunchi liane senza radici separati dalla terra spettrali su questa scena di desolazione immensa e però circoscritta piena della voce dell'acqua desolata e lamentosa io e cash siamo sul carro ievele a cavallo accanto alle ruote posteriori il cavallo freme e i suoi occhi rotiano selvaggi e azzurri chiari come quelli di un bimbo nel suo lungo muso rosa il suo respiro rantolante e come un grugnito ievele sta seduto dritto in equilibrio e guarda tranquillamente incessantemente rapidamente da una parte e dall'altra col viso calmo un po' pallido attento anche il viso di cash è grave e composto io e lui ci guardiamo con lunghe occhiate indagatrici che sondano i nostri occhi liberamente arrivando giù fino all'ultimo punto segreto dove per un istante cash e darla si accoccolano ostili e imperturbabili in preda a vecchi terrori ai vecchi presentimenti vigili e segreti e senza vergogna quando parliamo le nostre voci sono tranquille e distaccate mi pare che siamo sempre sulla strada tutto bene tu l'ha battuto quelle due grosse querce ho sentito dire che ai tempi dei tempi quei due alberi servivano a delimitare il guado quando il fiume era in piena credo che sia stato due anni fa quando faceva legna da queste parti mi sa che non avrebbe mai pensato che qualcuno dovesse usare questo guado penso di no sì deve essere stato allora ne ha fatto parecchie di legna allora con quella ha spento l'ipoteca mi dicono è poco ma sicuro molti di quelli che fanno legna in questa zona hanno bisogno di una buona fattoria per alimentare la segheria oppure una bottega ma per non era tipo da farlo certo è un filone già proprio sì deve essere sempre lì non avrebbe mai saputo tirare la legna fuori di là se non avesse sgombrato quella vecchia strada ci siamo ancora sopra si guarda tranquillamente intorno osserva la posizione degli alberi chinandosi a destra e a sinistra lungo la strada invisibile vagamente indicata lassù in aria dalla posizione degli alberi potati e abbattuti come se anche la strada fosse stata separata dalla terra e galleggiasse per aria lasciando nel suo snodarsi spettrale un monumento e una desolazione ancora più profonda di quella su cui siamo seduti parlando tranquillamente dell'antica sicurezza di vecchie cose insignificanti jevel lo guarda poi guarda me poi tranquillamente volta la testa interrogando sempre la scena mentre il cavallo trema tranquillamente tra le sue ginocchia lui potrebbe andare un po avanti e tastare il terreno gli dico sì dice che esce senza guardarmi la sua faccia è di profilo mentre guarda jevel che avanza il fiume lo deve vedere per forza è a una cinquantina di metri gli dico che esce non mi guarda la sua faccia è sempre di profilo se l'avessi potuto immaginare sarei venuto a dare un'occhiata la settimana scorsa il ponte allora era ancora in piedi dico io lui seguita a non guardarmi whitfield ci è passato sopra a cavallo jevel ricomincia a guardarci con la sua espressione sobria vigile interrogativa la sua voce è tranquilla che volete che faccia